Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo un sondaggio Tecne Agenzia Dire del 14 novembre del 2021 sulle intenzioni di voto politiche nazionali. Il PD primo partito cresce dello 0,1 al 20,4, Fratelle d'Italia perde lo 0,3 ed è al 20%, La Lega perde lo 0,1 ed è al 18,4, Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,2 ed è al 16,2, Forza Italia perde lo 0,1 ed è al 7,5, Azione guadagna lo 0,2 ed è al 3,9, Italia Viva perde lo 0,1 ed è al 2,2, mentre Articolo 1 guadagna lo 0,1 ed è al 2,1, IVE Europa Verde costante al 2%, Sinistra Italiana guadagna lo 0,1 ed è al 2%, più Europa perde lo 0,1 e scende all'1,5, gli altri partiti messi insieme fanno il 3,8%, a stensione incerti 44,1% che è sempre il primo partito. Grazie a tutti e arrivederci.